Il Corecom protagonista all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. Marco Briamonte, commissario del Corecom a Piemonte, è intervenuto nel corso della cerimonia alla Palagiustizia di Turino. La funzione attribuita al Corecom dall'Agicom, che è quella appunto di occuparsi delle conciliazioni in materia di telefonia, sostanzialmente di telefonia, è sicuramente un ruolo particolarmente rilevante perché va a sgravare in maniera piuttosto corposa e cospicua quello che è l'onera e che aspetterebbe poi alla magistratura. Infatti ormai da parecchi anni è diventato obbligatorio il tentativo di conciliazione, in ogni caso di controversia tra i cittadini e le compagnie di telefonia, ciò che comporta la possibilità di riuscire a trovare un accordo davanti appunto al nostro comitato oppure di chiedere che il nostro comitato emetta una decisione, che si sostanzia in una determina, in una delibera, che in qualche modo riesce o a far trovare un accordo appunto tra i cittadini, utenti e le compagnie telefoniche o che comunque porta ad una determinazione che diventa comunque come se fosse un provvedimento giurisdizionale. Da questo punto di vista il Corecom Piemonte è particolarmente attivo, tant'è vero che nello scorso anno sono state definite più di 4.000 procedure, proprio con una conciliazione o con una decisione del Corecom, il che sicuramente va a incidere in maniera corposa in quello che è l'attività complessiva di risoluzione delle dispute in una maniera che è alternativa a quella che sarebbe la modalità più ordinaria e cioè quella di rivolgersi alla magistratura, con ciò evidentemente dando una grossa mano anche alla magistratura stessa o comunque più in generale al mondo della giustizia.